I miei genitori all'estero ora non si possono ancora muovere da una città all'altra. Invece ora, com'è la situazione qui in Cina? Ciao a tutti amici, io sono Rachele. Oggi qui in Cina finisce la festa del Chin Min, ci sono tre giorni di ferie. Oggi mi trovo nella provincia dello Sichuan, nella città di Chengdu, che è una delle mete preferite per i cinesi, anche per gli stranieri che vengono in Cina, prima del Covid, per viaggio. Ed è una delle mete che i cinesi scelgono come prima tappa durante le ferie. In questi giorni la fortuna di essere in questa città e in un periodo in cui all'estero da noi non ci si può muovere ancora da una città all'altra, da un paese all'altro, qui ci sono un sacco di persone, moltissime persone hanno scelto di venire ancora a Chengdu per viaggiare e sembra che si siano dimenticati di questa pandemia. Qui siamo nella via principale di Chengdu e come avevo detto anche nello scorso video per quello che è successo nello Xinjiang e nel cotone, come potete vedere anche qui, posso notare che c'è un negozio di vestiti cinesi, un brand cinese pieno di gente e da parte il negozio Adidas completamente vuoto. Adesso vi devo dare una bella sorpresa, pensate che dietro di me ci siano molte persone, ma perché non avete visto ancora questa parte? Cioè non so se si riesce a vedere dal video, ma veramente ci saranno 3.000 persone. Assurdo! Ogni volta che vedete questo tipo di macchine, pensate anche voi che siano o italiani o tedeschi eccetera, ma invece questa per esempio è 100% cinese. A quanto pare poi questa macchina costa tipo 10 milioni di RMB. Ecco per rendervi l'idea, questa è la coda per entrare a una fermata della metro. Coda serpente. Sono al centro della cazza, non so se riuscite a sentire la mia voce, ma ci sono veramente un sacco di persone. Ecco però cosa ho visto, questa è la prima volta che mi capita di vedere in Cina, in 5 anni in questo paese, una pubblicità, uno stand così grande, per fare da pubblicità alle Filippine, quindi a un paese. Quindi sicuramente anche il settore viaggi ne ha risentito. Ecco quella ragazza era una ragazza filippina, e quindi a quanto pare il Covid ha veramente avuto un'influenza molto forte, forse in tutto il mondo e non solo sulla Cina. Quando chiedo a queste persone commercianti del Covid, mi sembrano un po' perplessi, veramente come se se lo fossero dimenticati, come se fosse una cosa di tantissimo tempo fa. siccome molti sapranno, i panda sono una specialità tipica della Cina, ma ancora di più di questa città di Chengdu. Vedete questa pancarella carissima, che vede tutto tema panda. Sì, perché io mi sento il virus è molto grave mio padre è molto bello ma non è un problema ma in loro pensi è molto grave ma io mi sento anche si è meglio si è meglio di guardare io penso che ci sono ancora bene anche se ci sono molto anche se non mi sento più bello ma io mi sento più安全 anche se è più importante è un'altra cosa che è più importante e più di noi e più di più più di più Grazie! Quindi, la nostra opinione... In realtà tutto è bene. Si senti abbastanza sicuro. Tutto è aperto, quindi... Abbiamo solo visitato il nostro gym, quindi tutto è bene. Non c'è più basso, non c'è più nuove case. Penso che il governo chinesi ha fatto un ottimo lavoro, perché è abbastanza sicuro. Penso che è stato uno dei più sicuri del mondo. C'è il mondo. Cioè, ciò che connessa con la situazione del coronavirus è Cina, sì? Perché c'è molto piccolo tutto è bene, tutto funziona, economica funziona, quindi possiamo ottenere qualche acqua, lavorare, studiare, visitare i lavori, visitare i gyms. Do you want to go back to your country? Sì, ovviamente, do we want to go back. È molto difficile, perché la quarantina, dopo il viaggio, e perché il prezzo dei tini, questo è molto prezioso, questo è un motivo di restare qui. ci sono sicuro qui. Sì, sì, siamo da Russia, e la situazione in Russia non è così buona, ma non è così buona, perché ogni giorno c'è circa circa 9.000 case si è dichiarato, ogni giorno, ma è meglio che un anno fa, quando 20.000 case si è dichiarato ogni giorno. ora. Sì. Ecco, quindi questa è la situazione ora qui di adesso, e come avete visto anche voi, tantissime persone anche in questo momento qui in Cina scegliono di viaggiare. Spesso penso ai miei genitori in Italia che ancora in questo momento non si possono spostare neanche da un paese all'altro, dal proprio paese al paese accanto, e anche pensando a mio papà che ha comprato due anni fa un biglietto per venire in Cina e fino adesso non l'ha potuta ancora utilizzare. Spero veramente che questa situazione migliori il più presto possibile. Per questo video è tutto, un grande saluto dalla Cina, un saluto da Chengdu, io sono Rachele, la c'è Luca. Se questo video vi piaciuto non dimenticatevi di lasciarci un like e di iscrivervi al nostro canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!